S.R.S. il magazine di Radio Playtile S.R.S. sicuramente, l'anno 2018 è un anno di cambiamento e invece il 2019 è un ritorno all'origine, al campo da calcio S.R.S. è una stagione finita, siamo tutti contenti abbiamo vinto il campionato S.R.S. che bello S.R.S. le cose belle S.R.S. noi ci siamo lasciati tanti mesi fa, quasi un anno fa praticamente con la tua intervista Tu avevi detto all'inizio, chi è Matteo? Un ragazzo tranquillissimo che comunque coltiva la passione per il calcio Da un anno a questa parte S.R.S. è uguale S.R.S. nonostante le esperienze televisive, insomma, la mia passione è il calcio ovviamente S.R.S. ma sono tanto contento di essere tornato a giocare tre mesi fa ormai S.R.S. beh, da quant'è che non giocavi comunque col calcio da un bel tempo? S.R.S. dal GF, da aprile praticamente S.R.S. un annetto S.R.S. apprile 2018 S.R.S. siamo lì S.R.S. picciolese, giusto? Pecciolese S.R.S. picciolese, un comune di Peccioli, un comune di provincia di Piso di Livorno, sai, penso Pisa però S.R.S. e com'è stato questo arrivo alla Pecciolese? S.R.S. come è stato l'arrivo alla Pecciolese? Com'è andata? S.R.S. trovo di un amico, mio caro amico che conosce il presidente appunto della Pecciolese S.R.S. che per un discorso lavorativo si conoscono S.R.S. e andavano vicino di un difensore, erano a pochi punti dalla prima in classifica, volevano vincere il campionato S.R.S. e mi hanno contattato S.R.S. e ce l'hanno fatta, quindi alla fine Matteo Gentili è stato d'aiuto quindi alla Pecciolese, dai S.R.S. ho portato un po' di esperienza S.R.S. e un po' delle mie qualità S.R.S. insomma S.R.S. era già un po' anche senza il mio attivo S.R.S. purtroppo il ragazzo ha fatto male gravemente agginato, quindi non poteva continuare la stagione S.R.S. poi comunque per chi volesse comunque anche sentire tutta quanta la scorsa intervista su YouTube c'è ancora, quindi se volete andare a recuperare un po' tutte, perché comunque Matteo ha un sacco, un sacco di esperienze calcistiche, 29 anni ma non sentirli proprio eh S.R.S. è quasi 30 S.R.S. eh beh sì, è ad agosto S.R.S. Matteo con calma, dai S.R.S. ho portato di casa che era un bambino per giocare a caccia come 14 anni S.R.S. infatti S.R.S. ecco che ho dedicato praticamente la metà del, no, più della metà della mia vita al pallone S.R.S. quando sono 7-8 fino adesso, quindi S.R.S. è un pochino eh, giusto qualcosina proprio S.R.S. vabbè dai, complimenti Matteo S.R.S. allora, noi abbiamo un po' di tempo ancora a disposizione, quindi parleremo anche d'altro magari, se c'è delle vacanze e quant'altro S.R.S. ma dicevi quindi, l'esperienza col GF è stata un'esperienza, vabbè, abbiamo visto tutto quanto, non vogliamo parlarne però S.R.S. cosa ti ha lasciato quell'esperienza? Visto che ormai anche quest'anno già la nuova edizione sta volendo il termine S.R.S. che ricordi hai tu di quell'edizione? A parte tutto quello che riguarda le cose che sappiamo tutti quanti noi S.R.S. tu, Matteo, di quell'edizione lì che tu hai vissuto, perché comunque tu hai tempi, cioè quando abbiamo fatto le S.R.S. interviste insieme, tu non avevi neanche in mente di fare il GF S.R.S. no, no, infatti è stato un cambiamento della mia vita totale S.R.S. nel senso che io non, come ben sai, non guardavo televisioni, per me era un punto sconosciuto S.R.S. e mi si sono accato appunto tutto dentro S.R.S. però insomma l'ho voluto fare più caldo come esperienza personale, come ho sempre detto, che non è una cosa che capita tutti i giorni S.R.S. e ho sicuramente conosciuto una parte di Matteo che non pensavo di conoscere, te lo dico sinceramente S.R.S. io avendo vissuto tanti anni fuori di casa pensavo che di essere un pochino più forte sotto questo punto di vista S.R.S. invece verso socialmente la fine del programma iniziavano a mancarmi i miei amici, la mia famiglia, i miei cari S.R.S. insomma, per me che era abitudine stare lontano da loro non lo sarei mai aspettato S.R.S. perché un conto comunque è stare lontano ma poterli sentire tutti i giorni S.R.S. un conto è stare lontano e non poter sapere come stanno, cosa facciano e tutte queste cose S.R.S. questo è vero anche, però poi dentro lì tutto quanto all'oscuro, da quello che accade all'esterno S.R.S. è una cosa un po' più S.R.S. certo che non c'è assolutamente niente Sergio di quello che succede, non sanno come stai S.R.S. non sai quello che loro pensano di te, se ti guardano o non ti guardano, cosa pensano, cosa vedono S.R.S. insomma, non sai assolutamente niente veramente di tutto S.R.S. ma è bello che comunque, guarda Matteo, questo forse è un complimento che ti faccio S.R.S. ma ti dico, sinceramente, guarda, sei rimasto umile se sei entrato, umile se sei uscito S.R.S. questo è quello che dico io e per quello che conta, secondo me non sei cambiato per niente S.R.S. quindi hai tu maturato un sacco di esperienza lì dentro, però comunque Matteo è rimasto Matteo S.R.S. e questa è una cosa veramente molto positiva, secondo me S.R.S. secondo me guarda, quella era un po' la paura dei miei genitori quando sono entrato, sinceramente S.R.S. il pensiero che un qualcosa mi potesse cambiare, sì che quel mondo televisivo potesse un po' cambiare S.R.S. insomma il Matteo che conoscevano loro S.R.S. secondo me questa è stata pure la loro paura quando sono entrato nella casa S.R.S. e beh certo, tutti quanti dicono, porca miseria, adesso l'impatto è così forte che ha quella reality S.R.S. sicuramente magari potrebbe, invece, per fortuna, non è successo, ecco, diciamo proprio così S.R.S. non è successo per niente S.R.S. l'impatto non c'è stato, dicevamo prima, Matteo è rimasto Matteo e infatti il calcio lo porti avanti S.R.S. questa è stata qui, cosa farei se state ancora col calcio o perlomeno basta? S.R.S. allora al momento il mio contratto è finito con la squadra, quindi sto già parlando con altre squadre, cioè ho altri già contatti S.R.S. quindi ancora non lo so, dai ancora è presto sai S.R.S. ma partirai penso per l'estate invece S.R.S. partirai per l'estate invece immagino S.R.S. io guarda stavo organizzando con un amico di andare qualche giorno in pizza S.R.S. purtroppo uno dei miei amici è un ristoratore S.R.S. e lui capisci bene che muoversi adesso è un po' un problema S.R.S. se riesci ad organizzarsi due o tre giorni durante mezzo la settimana ci piacerebbe andare a Ibiza, questo sì S.R.S. perché già l'anno scorso dopo il GF non volevamo andare e poi non siamo riusciti, insomma è una vacanza che ci siamo promessi S.R.S. vediamo se riusciamo a farla quest'anno S.R.S. e se no io S.R.S. per il momento programmi niente, guarda finito settimana scorsa al calcio e pochi giorni adesso che sono S.R.S. ti riposi S.R.S. abbiamo finito, mi sto riposando sì S.R.S. e ancora non ho niente in programma, però sicuramente una bella vacanza S.R.S. mi farebbe bene e sicuramente ci sarà S.R.S. assolutamente, assolutamente S.R.S. Matteo, allora gli argomenti sono questi S.R.S. gli argomenti di cui parlare ci sono stati S.R.S. ma allora chiediamo un po' a Matteo Gentili adesso invece S.R.S. non voglio parlare d'amore, non voglio parlare di niente S.R.S. vogliamo parlare di te, parliamo di S.R.S. cosa faresti al momento S.R.S. calcio, ok S.R.S. televisione, perché abbiamo letto in questi ultimi mesi S.R.S. Matteo Gentili farà, Matteo Gentili è S.R.S. Matteo Gentili è S.R.S. ho letto anche un articolo, un giornale pochi giorni fa S.R.S. un articolo che ho ingaggiato da Canale 5 S.R.S. io assolutamente non so niente S.R.S. quindi ti dissocio e tutto quanto S.R.S. immagino che dovesse essere un qualcosa S.R.S. si valuta, come è giusto che sia S.R.S. e come ho sempre detto, metto sulla bilancia S.R.S. e poi valuti S.R.S. a base di peso, cerco sempre il pallone S.R.S. perché quello che so fare è il mio interesse S.R.S. assolutamente S.R.S. però chiaramente poi la bilancia pende dalla parte televisiva S.R.S. ovviamente si scende di là S.R.S. vedranno S.R.S. poi con calma si vede S.R.S. il rapporto con i fan S.R.S. perché abbiamo visto che comunque negli anni S.R.S. beh in questi ultimi mesi con il GF e quant'altro S.R.S. ha avuto un impatto fortissimo anche sui social S.R.S. com'è con i tuoi fan S.R.S. eh no guarda S.R.S. ho avuto la fortuna di S.R.S. di conoscere tanti anche personalmente S.R.S. abbiamo fatto un paio di raduni S.R.S. ed ho conosciuto persone S.R.S. belle, belle persone S.R.S. perché poi ho visto S.R.S. sono quasi quotidianamente S.R.S. tanti sono stati quasi amici insomma S.R.S. persone con cui poter parlare S.R.S. con cui potersi incontrare anche S.R.S. per trascorrere delle belle giornate S.R.S. sono tanto contento S.R.S. insomma è la parte positiva S.R.S. dei social S.R.S. poi ovviamente c'è anche la parte negativa S.R.S. insomma questi haters S.R.S. persone che fanno tutto di sé S.R.S. ma di quelli non si deve proprio neanche S.R.S. non si deve neanche proprio guardare S.R.S. perché comunque S.R.S. si fanno parte però S.R.S. però lasciamoli stare alla fine S.R.S. ci sono S.R.S. fanno parte del gioco come dico sempre S.R.S. quindi S.R.S. devi essere bravo a non dare troppa importanza a quello che leggi S.R.S. poi alla fine te sai veramente quello che vale S.R.S. quello che sei e quello che fai soprattutto S.R.S. mamma mia S.R.S. il problema come dico sempre è che poi S.R.S. tante persone si lasciano traffinare S.R.S. perché magari un profilo fake S.R.S. scrive un qualcosa S.R.S. abbiamo visto Matteo là S.R.S. che poi Matteo non c'era là S.R.S. però purtroppo poi le persone si lasciano traffinare Matteo era là, Matteo ha fatto quello, Matteo ha fatto quell'altro S.R.S. probabilmente si dovrebbe tante volte ragionare un pochino più S.R.S. con la propria testa S.R.S. senza lasciarci traffinare dalla S.R.S. dalla massa S.R.S. però vabbè insomma dai S.R.S. sono cose che capitano pure queste D'altronde S.R.S. vengono fuori i Marc del Tagirone S.R.S. non vengono fuori anche i fake ragazzi S.R.S. questo è S.R.S. vabbè S.R.S. ultima cosa S.R.S. ho visto su Instagram che S.R.S. oltre alle bimbe di Giulia S.R.S. c'è anche il bimbo di Matteo S.R.S. non so se l'avete visto sui social S.R.S. ci sono veramente ragazzi S.R.S. stai attento Matteo S.R.S. che qui veramente se qua S.R.S. viene fuori in qualcosa S.R.S. attaccano questi eh mi sa S.R.S. siamo attenti S.R.S. le fanbase sono potenti S.R.S. comunque S.R.S. nel bene e nel male sono S.R.S. però la maggior parte S.R.S. sono persone che ti vogliono bene S.R.S. che ti seguono e ti apprezzano S.R.S. per quello che sei insomma S.R.S. questo fa piacere S.R.S. riuscire ad entrare comunque S.R.S. essere un esempio per tanti ragazzi S.R.S. è una bella responsabilità S.R.S. da un certo punto di vista S.R.S. perché comunque diventi quasi poi S.R.S. l'idro delle persone S.R.S. ragazzini che ti seguono S.R.S. che vogliono fare quello che fai S.R.S. quindi è molto importante S.R.S. quello che fai e il messaggio che trasmetti S.R.S. dall'altra parte comunque S.R.S. è una grande soddisfazione di essere riuscito a entrare nel cuore delle persone S.R.S. e poi tu lanci un messaggio secondo me S.R.S. che è pazzesco S.R.S. e quello che tutti quanti devono fare alla fine S.R.S. è quello di non mollare mai S.R.S. perché se tu dal 2004 quando è stato S.R.S. 2001 e tutte le squadre e quant'altro S.R.S. fino ad oggi S.R.S. continua a crederci S.R.S. e ci credi nello sport, nel calcio S.R.S. e non molli mai S.R.S. alla fine ce la fai S.R.S. è quello che tu stai mandando moltissima gente S.R.S. ma non mollare e crederci sempre S.R.S. perché ognuno di noi vale tanto S.R.S. e devi sempre dimostrarlo S.R.S. non devi mai arrendere per le prime difficoltà S.R.S. assolutamente perché poi dopo alla fine S.R.S. se non molli e ci credi S.R.S. arrivano i risultati sicuramente S.R.S. io penso di essere l'esempio S.R.S. sia a livello sportivo che a livello sentimentale S.R.S. è di quello che stavo dicendo S.R.S. però non mi sono mai battuto S.R.S. insomma si casca S.R.S. perché ti deve cascare S.R.S. ma ci si rialzano sempre più forti di prima S.R.S. assolutamente S.R.S. assolutamente sì S.R.S. Matteo allora il tempo già è finito S.R.S. io ti devo ringraziare S.R.S. sarei ore a parlare con te lo sai S.R.S. lo so grazie S.R.S. lo so grazie grazie Matteo S.R.S. poi comunque vabbè adesso S.R.S. sta finendo S.R.S. siamo alla penultima puntata S.R.S. però comunque a settembre siamo ancora qui S.R.S. è tutta l'estate in mezzo S.R.S. quando vuoi mi fa sempre piacere S.R.S. va bene S.R.S. grazie mille Matteo S.R.S. mi raccomando sui social S.R.S. Matteo Gentili seguitelo perché è top S.R.S. ciao Teo grazie S.R.S. grazie mille Sergio S.R.S. ciao 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 S.R.S. weekend